Dalle lezioni sono passati esattamente 40 giorni, 22 ore, 31 minuti e 15 secondi e c'è ancora tutto il paese dietro Silvio che suona il clacson. Ma cosa aspettano a tamponarlo? Eh, cosa aspettano? Siamo proprio degli ingenui, siete degli ingenui. Cosa aspettiamo? Stiamo aspettando il Molise. Siamo aspettando, questo è il Molise. Intanto la prima notizia è che esiste. E la seconda è che domenica 22 ci saranno le elezioni regionali. Ecco, dicono che se Salvini domenica darà un'altra legnata a Forza Italia, Berlusconi verrà definitivamente impagliato e la situazione sarà sbloccata. Come dire, a questo punto il Molise è il nostro Ohio. Avete presente, l'Ohio negli Stati Uniti? È lo stato in cui negli USA si decide sempre che il presidente americano. Da noi è uguale. Il Molise deciderà il nostro futuro. Siamo passati da per l'Italia decide tutto Strasburgo a decide tutto Campobasso. Cioè praticamente chi vince il Molise prende tutto. The winner takes it all. Come dicevano gli abba. Molise takes it all. Decide Campobasso. ... Allora, Cia von Branducci! Deci del campo bar